La legge dei più forti applicata al dodicesimo turno del campionato di Serie D. Vincono le prime 5 del Girone H in una domenica praticamente interlocutoria nei quartieri alti della classifica. La capolista potenza, 34 punti conquistati su 36 a disposizione, non fa sconti anche alla Cenerentola Alto Tavoliere Sansevero. Resta a più 6 sulle principali antagoniste. La formazione di Nicola Ragno al Madre Pietra Stadium di Apricena vince il derby a Polo Lucano con le retti del solito Franza e di Guaita. Successi anche per Cerignola, Ammugnano di Napoli con la frattese decisiva alla doppietta di Morra ed Altamura. 1-0 a bolla con il Pomigliano, Santagnello a metà della ripresa regala il sesto successo di fila ai Murgiani e l'amplenda quando c'è Ciro Ginestra alla guida dei Biancorossi. 18 punti nelle ultime sei gare anche per Taranto, 3-2 a Canosa nel derby con lo Sporting Fulgor e Cavese. Stesso risultato al vicino di Gravina. I Murgiani al secondo K.O. interno di fila rimontano due volte i campani con i centri di Salatino e Mbida. Gli ospiti a segno in precedenza due volte con Massimo. Si portano i tre punti a casa grazie a questa rete ad un quarto d'ora dal termine di Martigniello. Vince il Nardò che batte in cassa il Gragnano con un gol di Agodirin. Perde male 4-1 il Manfredonia a Picerno. Nel campionato di eccellenza intanto restano in testa l'USB Tonto e il Gallipoli che allungano leggermente il passo nei confronti delle principali antagoniste. I nero-verdi di Gino Zinfolino battono 3-0 al Città degli Ulivi la Vigortrani nel big match di giornata. Gli ospiti non sanno essere cinici nel primo tempo. Manzari anticipa il riposo portando in vantaggio i suoi con un gol da antologia. Terrone e Terrevoli fanno bis e tris nella ripresa. Successo in rimonta per l'alta capolista i Gallipoli con il Vieste. Mentre il Fasano non va oltre l'1-1 in casa con l'Otranto e scivola a meno 3 dalle 2 di testa. Terza posizione condivisa per gli uomini di la terza con la vetrana. Al nono risultato utile di fila dopo il pari con un gol per parte a Terlizzi con il Molfetta. Passiatore illude i Tarantini. Vitale rimedia nel finale per la formazione di Pino Giusto. Prima vittoria in campionato per Barletta ed Unione Calcio. Entrambe di misura, entrambe con il punteggio di 2-1. Decide per i Biancorossi di Franco 5 al Manzichiappoli il match contro il Novoli. Questa prodezza balistica di De Matteis intorno all'ora di gioco. Stesso punteggio e stesso minuto più o meno del gol partita per i Bicegliesi e la Salandra a condannare alla sconfitta il Casarano. Torna a vincere sul campo e continua a risalire la classifica. L'Omnia Bitonto 1-0 esterno ad Aradeo con centro decisivo di Ladogana. Perde il Corato a Galatone contro il Galatina e si allontana dalle prime dell'eccellenza di Puglia. Perde il Corato a Galatina e si allontana dalle prime dell'eccellenza di Puglia.